Musica Domani è mercoledì 24 ottobre, la chiesa celebra tra gli altri San Raffaele. Le previsioni del tempo di Telenuova, benvenuti. Piccolo vortice tra le isole maggiori, temporali tra le isole maggiori, soprattutto Sardegna Orientale, Cagliaritano, tutta la Sicilia, più forti sul settore ovest, sul Trapanese, sul Palermetano, sull'Agrigentino. Nebbie sull'ovest della Valpadana, sul Piemonte e sulla Lombardia in particolare e a ovest dell'Emilia. Un po' di nubi sul Lazio, sole e caldo altrove con temperature intorno ai 24 gradi, 21 gradi sul nord-est. Temporali, sino alla serata inottata sulla Sicilia. Musica Continuerà ad essere attivo sulla regione Campania un forte anticiclone che impedirà alla perturbazione presente da giorni sul terreno di arrivare sin sulla nostra regione. Dunque anche domani il cielo sarà in prevalenza sereno, le temperature saranno stazionari e con i venti deboli di direzione variabile il mare sarà poco mosso. Musica Musica